Musica Buongiorno, benvenute a questa edizione del TV giornale di Telestense e la cronaca. In primo piano un incendio scoppiato nella notte per cause ancora tutte da accertare è costato la vita ad un uomo di 87 anni e successo a Poggio Renatico in via Cavour al primo piano di un'abitazione in cui l'uomo viveva con il fratello e la nuora, entrambi 89 anni. L'uomo si era trasferito lì da Bologna proprio per non stare più da solo. La coppia di suoi parenti è riuscita a salvarsi uscendo dallo stabile mentre l'87enne è rimasto intrappolato tra il fumo e le fiamme. Lunghe le operazioni dei vigili del fuoco che a metà mattinata ancora stavano cercando di recuperare il corpo dell'uomo. Stando ai primi accertamenti le fiamme si sarebbero sprigionate proprio nella sua stanza che probabilmente ha perso i sensi subito a causa del denso fumo. L'abitazione è stata posta sotto sequestro dal magistrato di turno e sul posto sono ancora presenti oltre ai vigili del fuoco i carabinieri della stazione di Poggio Renatico e della compagnia di Cento. E naturalmente vi daremo altri aggiornamenti su questa notizia nell'edizione serale del nostro TV giornale. Ora torniamo a parlarvi del caso di Lucia Panigalli che ieri prendendo spunto dalla propria drammatica vicenda personale ha lanciato una proposta e una richiesta d'aiuto. Vediamo però prima di tutto ciò che le è accaduto sin da quando nel 2010 l'uomo con cui aveva avuto una relazione sentimentale ha cercato di ucciderla. Quel 16 marzo di 7 anni fa l'aveva aspettata sotto casa, incappucciato e con un coltello da cucina in mano e poi l'aveva aggredita con calci e pugni colpendola alla gola e al volto più volte per poi fuggire. Per quell'aggressione Mauro Fabri, 57 anni, agricoltore di Ponte Rodoni, era finito in carcere ma per Lucia Panigalli, ex compagna del bondenese, incubo e paura non finiscono. Condannato a 8 anni e 4 mesi di carcere, Mauro Fabri viene liberato dopo l'arresto ma torna all'arginone per scontare la sua pena solo nel 2015 quando la sentenza nei suoi confronti per l'accusa di tentato omicidio aggravato diventa definitiva. Ed è proprio dal carcere, mentre trama vendetta contro l'ex compagna che nel frattempo chiedeva con una causa civile un risarcimento di 500.000 euro tenta di assoldare un sicario per ucciderla. Per questo omicidio su commissione si rivolge ad un bulgaro compagno di Cella cui offre un compenso equivalente a 75.000 euro tra contanti, 25.000 euro auto, un SUV di piccola cilindrata e un trattore Lamborghini. Ma il piano salta perché il bulgaro racconta tutto ai magistrati. Nel dicembre 2017 Mauro Fabri finisce così di nuovo al processo ma questa volta il Tribunale di Ferrara lo assolve perché non essendo stato commesso l'omicidio il fatto non è previsto dal codice come reato. Lucia Panigalli ha convocato ieri la conferenza stampa per lanciare una proposta di integrazione del codice penale insieme al sindaco di Vigarano, Barbara Paroni. Lucia Panigalli ha paura. Se sono qui, spiega in conferenza stampa, è perché non ho voluto morire. Si è salvata da un tentativo di omicidio avvenuto nel 2010. L'uomo che ha cercato di ucciderla, Mauro Fabri, agricoltore bondenese, per questo tentativo è stato condannato ma la paura non è finita. Io ne sono convinta perché questo uomo non ha nessuno al mondo. Quando esce di galera cosa fa? Chi va a cercare? Se mi ha identificato prima come la causa di tutti i suoi mali? Figurarsi adesso ancora di più. Quindi io mi sento molto vulnerabile. Dall'interno del carcere in cui sta scontando la pena, Mauro Fabri ha cercato di assoldare un sicario per farla uccidere. Non ci è riuscito. L'uomo che doveva fare da mediatore un bulgaro si è rivolto ai magistrati. È scattato un secondo processo ma questa volta in primo grado Fabri è stato assolto. Il PM chiedeva 12 anni di reclusione, il giudice ha dato solo un anno di libertà vigilata, pur essendo accertate sia le trattative tra Fabri e l'uomo che doveva organizzare l'omicidio, sia la pericolosità dello stesso Fabri. Tutto nasce da un articolo, il 115 del codice penale. Ma è una sentenza che si basa sull'articolo 115 del codice penale che prevede che nel caso di istigazione a commettere un delitto e il delitto poi non avvenga, sia che l'istigazione sia accolta, sia che l'istigazione non sia accolta, il fatto non è previsto dalla legge come reato. La condizione è per l'appunto che il delitto non avvenga. Non c'è pace dunque per Lucia. L'uomo che ha cercato di ucciderla tra un anno potrebbe addirittura uscire dal carcere e a quel punto i rischi per lei sarebbero enormi. Da qui nasce l'iniziativa presentata oggi e sostenuta da Barbara Paron, sindaco della cittadina in cui vive Lucia Panigalli, Vigarano. Vogliamo trovare il modo di proteggere Lucia. Io come sindaco ho la responsabilità della sua salute e della sua sicurezza e non posso esimermi dal fare qualcosa. L'unico modo è integrare il codice penale per quella parte che manca e che rende Lucia così fragile e in pericolo. Sono molti ormai coloro che sostengono Lucia nella propria battaglia, ma lei continua ad avere paura. L'ho detto tante volte che io mi sono sempre sentita in pericolo, anche perché quando ti succede una cosa così assurda nella vita poi dopo hai paura di qualunque cosa. Ma io mai avrei pensato che lui potesse farmi una cosa del genere e da quel momento in poi tutto è stato possibile per me. Parliamo ora di inquinamento ambientale. Ferrara è tra le città con l'aria più inquinata da PM10 in regione, stando almeno ai dati di Lega Ambiente. Che il 2017 sia stato l'anno nero dello smog in Emilia-Romagna lo avevamo purtroppo già rilevato dai dati di Arpae. Oltre la metà delle stazioni di rilievo della qualità dell'aria hanno sforato i limiti di PM10 consentiti dalla legge. Ora si aggiunge il report di Lega Ambiente che evidenzia come nella nostra regione siano stati ben 8 su 9 i capoluoghi di provincia a superare le 35 giornate di sforamento delle polveri sottili. Il valore massimo permesso è di 50 microgrammi per metro cubo, limite che è concesso di oltrepassare per 35 volte l'anno ma che ben 27 stazioni su 43 hanno superato. E la media regionale è di 46 giornate fuori legge. In testa alla nera classifica svettano Modena, Reggio Emilia e Piacenza con 83 giorni, seguono Parma 74, Ferrara 62, Rimini 57, Ravenna 53, Bologna 40. Solo Forlì e Cesena hanno rispettato il parametro imposto dalla legge. Lega Ambiente riporta anche la classifica dei superamenti di ozono per il 2017, inquinamento che è bene non prendere sotto gamba dal momento che l'Agenzia Ambientale Europea stima in 13.600 le morti premature riconducibili all'ozono in Europa nel 2015, di cui 2.900 solo in Italia. Lungo lo stivale 44 città hanno superato il limite di 25 giorni nell'anno solare e la maglia nera va sicuramente a Catanzaro con 111 superamenti. Ma se per l'Emilia Romagna sommiamo i dati di ozono e PM10, il quadro risulta essere abbastanza fosco. I giorni totali di inquinamento a Piacenza e Modena diventano 158, il 43 per cento, 145 a Reggio, 143 a Parma, 111 a Ferrara, 103 a Rimini, 92 a Bologna, 91 a Ravenna. È quasi scaduto il tempo per la presentazione delle liste elettorali in vista delle consultazioni previste per il prossimo 4 marzo. Vediamo quali sono gli ultimi assestamenti, soprattutto sul fronte del centro-destra. Candidature in discussione sino all'ultimo minuto per Forza Italia. La configurazione delle liste nei collegi proporzionali dell'Emilia Romagna è cambiata quando si è capito che Massimo Palmizio, fino ad oggi coordinatore regionale del partito di Berlusconi, non sarebbe stato ricandidato. A quel punto è scattata una revisione delle candidature che si è sciolta solo verso sera, poco prima del termine ultimo per la presentazione delle liste. Vittorio Sgarbi sarà comunque della partita, capolista di Forza Italia nel collegio proporzionale di Ferrara, Modena e Cento per la Camera dei Deputati. Nel collegio di Piacenza sarà capolista Micaela Biancofiore. A Bologna la capolista sarà l'ex ministro dell'Università Maria Stella Gelmini. Anna Maria Bernini sarà capolista per Forza Italia al Senato nella circoscrizione che raccoglie le province romagnole Ferrara e Bologna. La Lega invece ha chiuso i giochi. Emanuele Cestari, assessore comunale al bilancio di Bondeno, sarà candidato nel collegio uninominale dell'Alto Ferrarese e della Bassa Modenese. Maura Tomasi, leghista, comacchiese, candidata a sindaco contro Marco Fabri, sarà oggi candidata nell'uninominale di Ferrara. Nell'istino proporzionale troviamo come capolista Carlo Piastra di San Pietro in Casale, capo della segreteria di Alan Fabri in Regione Emilia Romagna. Sul fronte del Movimento 5 Stelle sono due i nomi ferraresi da registrare. Marco Falciano, esponente dell'Unione Pescatori Estensi e delle Guardie Ecologiche Volontarie, esperto delle normative anti-braconaggio, candidato nell'uninominale di Ferrara. E Davide Zanforlini, avvocato ambientalista, candidato nell'uninominale di Ravenna. Sul versante di sinistra registriamo la candidatura all'uninominale di Ferrara di Irene Bregola per la lista di liberi uguali. Torniamo alla cronaca. La questura di Ferrara, durante le proprie attività di controllo, ha verificato a cento l'esistenza di un centro trasmissioni dati per la raccolta di scommesse su eventi sportivi, che ha alla base un bookmaker con sede a Malta, della Stanley Bet LTD, che di fatto non può operare in Italia. Pertanto, con un provvedimento di immediata cessazione dell'attività per la raccolta delle scommesse, contro il quale tuttavia il titolare del centro stesso può ricorrere entro 30 giorni al perfetto di Ferrara o entro 60 giorni al TAR dell'Emilia-Romagna, l'attività è stata chiusa. La Stanley Bet, infatti, non risulta essere in possesso di una concessione nazionale per l'accettazione delle scommesse. E anche di questa notizia vi daremo altri aggiornamenti nell'edizione serale del nostro telegiornale. Ora torniamo ancora una volta in regione per un'indagine della Guardia di Finanza sui consorsi di bonifica. Sentiamo. Finiscono nel mirino delle Fiamme Gialle 31 dipendenti pubblici, tra cui 5 dirigenti regionali, coinvolti nella gestione del demanio idrico regionale. Attraverso due consorsi di bonifica della provincia di Bologna veniva concessa acqua senza alcuna autorizzazione a diversi soggetti, molto spesso società di capitali. Ne è risultato un danno erariale da oltre 8 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Bologna ha scoperto mancati versamenti di canoni idrici per 6.978.144 euro per il periodo che va dal 2001 al 2017. A questo va aggiunto un ulteriore spreco di 1,3 milioni di euro legati ad una cattiva gestione della macchina ed è qui che entrano in gioco i 5 dirigenti regionali. Non hanno provveduto nel tempo a definire le strategie necessarie per superare le criticità stratificatesi nel corso degli anni con conseguente lievitazione dei costi di funzionamento dell'apparato burocratico. Gli ammanchi sono emersi a seguito di controlli svolti presso ARPAE, l'Agenzia regionale per la prevenzione dell'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna che gestisce concessioni, autorizzazioni, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche. I militari hanno scoperto che i consorzi hanno distribuito risorse idriche ad una serie di soggetti in prevalenza società di capitali anche per finalità industriali, antincendio e igienico-ambientali in assenza di atti autorizzativi idonei e quindi senza il versamento dei rispettivi canoni alla regione da parte degli utilizzatori. La parola ora va alla Corte dei Conti che dovrà verificare quanto scoperto dalla Guardia di Finanza. Torniamo a Ferrara. Sono stati presentati questa mattina i dati relativi alle donazioni del Centro Donatori di Midollo di Ferrara che nell'anno 2017 ha raggiunto degli ottimi risultati consolidando un trend di crescita nella gestione di un settore tanto complesso e di grande rilevanza sanitaria e sociale. I centri donatori nel rispetto delle strategie adottate dalla regione fanno parte di una rete di lavoro coordinata dagli ospedali di Galliera di Genova. Questi centri hanno la finalità di offrire ai pazienti la possibilità di accedere al trappianto allogenico di cellule staminali e ematopoietiche anche in assenza di un donatore familiare. Per questo scopo cercano di trovare donatori sani, volontari, non consanguinei con caratteristiche immunogenetiche tali da consentire il trappianto con elevate probabilità di successo. Nel 2017 ADMO Emilia Romagna ha reclutato in tutta la regione 5.260 nuovi donatori 760 in più rispetto all'anno precedente. Il centro donatore di Ferrara in particolare in tutto questo si è particolarmente distinto con 827 nuovi donatori reclutati di cui buona parte già tipizzati prima della fine del 2017 dall'immunogenetica del Sant'Orsolo di Bologna e quindi pronti per una possibile chiamata alla donazione. L'opera di reclutamento ben organizzato e coordinata da ADMO Provinciale di Ferrara ha permesso al centro donatore di Midollo di Ferrara di raccogliere frutti decisamente importanti nel corso del 2017. Andiamo ora a Comacchio dove ieri si è tenuta una cerimonia in occasione del giorno della memoria. l'iniziativa ha avuto inizio al Parco della Resistenza. Comacchio ha ricordato le vittime della Shoah e di martiri della guerra di liberazione in una partecipata cerimonia tenutasi al Parco della Resistenza. All'iniziativa promossa ed organizzata dall'Ampi di Comacchio e preseduta da Vincenzino Follegatti hanno preso parte le autorità civili e militari le associazioni combattentistiche ed arma e in una rappresentanza di alunni e di insegnanti dei due istituti comprensivi locali. Dopo l'alza bandiera effettuato da due studenti è stata deposta una corona davanti alla lapide che ricorda la tragica fucilazione di Giuseppe Ghirardelli Giovanni Farinelli Edgardo Fogli e Vittorio Bulgarelli avvenuta il 29 gennaio 1945 per mano nazifascista. Il corteo si è poi trasferito nella sala polivalente San Pietro a Palazzo Bellini dove è stato organizzato l'incontro pubblico per non dimenticare in presenza del vice presidente provinciale dell'Ampi Daniele Civolani. La memoria deve essere e restare patrimonio comune ha dichiarato l'assessore alla pubblica istruzione Maria Chiara Cavalieri per formare sempre più una coscienza partecipata tesa a prevenire ogni scintilla di odio razziale di violenza di ingiustizia. Quattro anni per banca rotta fraudolenta l'ex patron della SPAL 1907 Cesare Butelli assolto invece l'imprenditore Remo Turre quanto prevede la sentenza arrivata ieri mattina al tribunale di Ferrara per l'ex patron della SPAL la condanna si collega con l'affare fotovoltaico. Il giudice infatti ha accolto in gran parte la tesi dell'accusa ovvero che Butelli avrebbe fatto confluire nelle sue società la Gretton e la Etrapiris gli introiti destinati alle casse della SPAL 1907 la pubblica accusa aveva chiesto per Butelli sei anni assolto per non aver commesso il fatto invece l'imprenditore Remo Turra che secondo l'accusa era il complice di Butelli in pratica l'ex presidente della SPAL è stato ritenuto responsabile di una serie di distrazioni di denaro a vantaggio delle sue società private in particolare i 950 mila euro versati da Turra per l'acquisto di quote SPAL i 500 mila euro sempre da Turra per l'autorizzazione unica e l'utilizzo dell'impianto realizzato nei terreni di Era di Caleona a Casaglia ci sono poi oltre a un milione di euro che secondo la pubblica attesa accolta dalla Corte sarebbero finiti nelle casse di Gretton e Netrapiris per operazioni inesistenti Butelli è stato ritenuto colpevole dai giudici di primo grado anche per aver fatto confluire nelle sue società 10 mila euro dopo le dichiarazioni di fallimento parliamo ancora di violenza sulle donne stop alla violenza sulle donne il monito è arrivato dall'istituto alberghiero Orio Vergani che ieri mattina ha presentato un calendario per sensibilizzare sul problema un convegno organizzato insieme all'istituto alberghiero Savioli di Riccione vediamo 365 giorni di no alla violenza sulle donne e soprattutto i giovani devono essere portatori di un messaggio sociale di cui mai come in questo periodo se ne sente il bisogno lo dicono i numeri secondo uno studio Ipsos i ragazzi dai 18 ai 29 anni che vivono nel centro nord sono la fetta più larga della società italiana che non riterrebbe la violenza sulle donne come una violazione di un diritto umano universale sono aumentate poi dal 7% le donne prese in carico dai centri antiviolenza il fenomeno non è assolutamente in calo ha detto Paola Castagnotto presidente del centro donne giustizia e noi intercettiamo solo il 10% delle donne che subiscono violenza è il quadro tratteggiato dalla presidente nel corso del convegno in cui è stato presentato all'istituto alberghiero Orio Vergani il calendario con cui si vogliono sensibilizzare quotidianamente le persone che lo esporranno in casa negli uffici e nelle scuole proprio qui gli studenti del Vergani di Ferrara e dell'istituto Savioli di Riccione hanno accolto questa iniziativa in collaborazione con l'associazione Universal Pleasure presieduta da Irene Benedetti autrice del calendario arricchito dalle ricette degli chef dell'istituto romagnolo i giovani sono il nostro futuro sono quelli che dovranno portare avanti questo discorso devono essere i protagonisti quindi è importante fare queste cose soprattutto per loro e con il loro apporto avete visto due bellissime rappresentazioni che ci hanno fatto capire quanto questi ragazzi hanno recepito il messaggio che noi abbiamo voluto dare al convegno rappresenta anche il questore di Ferrara Giancarlo Pallini che ha ribadito come il 25 novembre e anche l'8 marzo non debbano essere le uniche giornate all'anno in cui si riflette sulla violenza sulle donne ma deve essere tutti i giorni per l'occasione albergani c'era un menù speciale sono tutte chef donna anche il metro è donna e hanno preparato alcune ricette che si sono su questo calendario che sono ricette romagnole perché vengono da Rimini Riccione con alcune nostre ricette che abbiamo nei libri che abbiamo anche noi pubblicato e queste sono tipicamente ferraresi sono diciamo tutte le ricette che in questi quattro anni in cui io sono stata in Europa come rappresentante italiana ho portato ovunque ho cercato di far conoscere l'Emilia Robaghi tutta l'Europa bene questo era il nostro ultimo servizio vi ricordo che stasera nell'edizione delle 19.30 del nostro telegiornale torneremo a darvi gli aggiornamenti sulla notizia con cui abbiamo aperto questa edizione cioè l'incendio avvenuto a Poggio Renatico dove un uomo di 87 anni ha perso la vita parleremo ancora di cronaca ma ci occuperemo anche di Vinilup un'azienda che opera nel petrolchimico di Ferrara sentiremo le richieste dei sindacati per quanto sta succedendo a questa azienda naturalmente gli aggiornamenti della giornata li potete seguire sul nostro sito www.telestense.it ma anche su Facebook Twitter e Youtube grazie dunque per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata arrivederci grazie a tutti